E, lui il suo unico erede, Albano lascia tutto a un solo figlio Albano Carrisi è uno dei pilastri fondamentali del mondo della musica italiana Con l'ex moglie Romina Power si è esibito, e continua ancora a farlo, sul palcoscenico per la gioia di fan Tempo fa la figlia Jasmine Carrisi aveva lasciato intendere che l'eredità del padre sarebbe stata data al fratello Albano Junior, Vito Di conseguenza il diretto interessato è subito intervenuto per spiegare come stanno realmente le cose Albano Carrisi ha una carriera degna di tutto rispetto Nato a Cellino San Marco il 20 maggio 1943, è il figlio di Carmelo Carrisi e Yolanda Ottino, una coppia di agricoltori Probabilmente per questo motivo ama il contatto con la natura Infatti, quando ha del tempo libero trascorre intere giornate nelle sue tenute Nel cuore del Salento ha costruito un borgo antico tra boschi, vigneti e uliveti poco distante dal mare Adriatico e dal mare Onnio e una ventina di chilometri da Lecce, la cosiddetta, capitale del barocco Ha anche un'azienda che produce vino e olio Per quanto riguarda la vita privata Albano è stato sposato con la Power e dal loro amore sono nati Iari, Christel, Romina e Ilenia, scomparsa nel 1993 Poi ha accolto tra le sue braccia Jasmine Albano Junior grazie a Loredana Lecciso In seguito a una frase di Jasmine in tanti hanno iniziato a diffondere una falsa notizia Per fortuna la faccenda è stata chiarita La mia eredità verrà suddivisa in parti uguali Mio fratello Bido che quest'anno finisce il liceo in Svizzera Vuole studiare per gestire la tenuta Jasmine Carrisi con questa frase ha lasciato intendere ciò che è stato fermamente smentito Infatti il cantante ha messo subito in chiaro le cose E, una frase interpretata male Ho suddiviso tutto in parti uguali Sono già partito con un 10% per tutti e col tempo sarà diviso tutto, ma proprio tutto, in parti uguali Poi ha proseguito nel suo discorso, non ho mai pensato né mai detto che darò tutta l'azienda a mio figlio Bido E, una fake news, la mia eredità verrà suddivisa in parti uguali ai miei figli Ecco cosa ha detto durante l'intervista rilasciata di G-Com24 Curiosità su Albano Junior Albano Junior e sua sorella sono andati a vivere con la madre a Lecce, ma si vedono costantemente con il padre A differenza di Jasmine è un ragazzo abbastanza riservato e preferisce stare lontano dal mondo dello spettacolo Ha fatto eccezione quando ha sfilato tempo fa sul Red Carpe del Festival del Cinema di Venezia Molti hanno notato la strabiliante somiglianza con Albano Grazie a tutti Grazie a tutti